Ben ritrovati a tutti, sono Pasquale Fesegna e in questi giorni vi sto parlando delle Final 8 di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Siamo arrivati alla finale di UEFA Europa League che si è disputata ieri sera, venerdì 21 agosto 2020, causa pandemia Covid. Come sapete tutto il torneo è stato spostato causa pandemia Covid, da 5 all'8 agosto si sono fatte una sorta di qualificazione a queste Final 8 in cui abbiamo avuto 4 match di ritorno di Champions League degli ottavi, 6 match di ritorno di Europa League degli ottavi, 4 squadre già si erano qualificate ai quarti tra cui l'Atalanta e il Champions League e 2 squadre, 2 partite, Inter, Getafe e Sevilla-Roma invece erano da disputare ottavi a gara singola direttamente dove si sarebbero fatte le Final 8 che in Europa League si tengono in Germania. Dopo questo torneo, dal 5 all'8 agosto, si è passato poi al vero e proprio torneo. Le Final 8 sono iniziate lunedì e martedì 10 e 11 agosto 2020 per i quarti finali di Europa League, da mercoledì fino a sabato dal 12 al 15 agosto 2020 per i quarti di Champions League. L'Inter ha battuto gli ottavi in gara secca e Getafe 2 a 0, ha battuto il Bayern Leverkusen 2 a 1 ai quarti il primo giorno lunedì. Poi abbiamo avuto le semifinali che si sono discutate domenica e lunedì 16 e 17 agosto 2020 per l'Europa League, martedì e mercoledì 18 e 19 agosto per la Champions League. Qui abbiamo visto l'Inter batte 5 a 0 allo Shakhtar di lunedì, quindi dopo 7 giorni, mentre dall'altra parte il Sevilla che aveva battuto 2 a 0 alla Roma agli ottavi, era riuscito a battere 1 a 0 il Wolverhampton ai quarti, ed era riuscito a battere 2 a 1 in Manchester United in semifinale. Quindi avevamo un italiano, una spagnola, un inglese, un'ucraina in semifinale. D'altra parte in Champions League, velocemente dai, Atalanta PSG 1 a 2, Lipsia Atletico 2 a 1, Barcellona Bayern Monaco 2 a 8, City Lione 1 a 3, poi le semifinali Lione Bayern Monaco 0 a 3, Lipsia PSG 0 a 3, anzi Lipsia PSG 0 a 3, Lione Bayern Monaco 0 a 3. Andando a questa partita, io ci credevo, onestamente sono milanista, quindi in teoria dovete fare contro, però dopo 21 anni la prima italiana, in finale, è già un risultato. Però l'Inter aveva vinto 3 volte la Coppa, ricordiamolo, in 8 anni ha vinto la Coppa, nel 91 contro la Roma, nel 94, nel 97, nel 98 e nel 97 aveva perso la finale, tra cui la prima e l'ultima contro Roma e Lazio, roba assurda. Mentre il Siviglia aveva vinto, aveva fatto anche il tripit, aveva vinto la Coppa nel 2006-2007, ricordiamo Querta, perché sta circondando il nome, Querta è un giocatore che morì soffocato, e infatti la Supercoppa 2007 rischiò di non giocarsi, proprio per questo poi fu una serata celebrativa di Querta, segnò il suo amico Renato sul rigore, no, il segnò il suo Renato, poi riuscì a ribattare il risultato. E poi ha fatto il tripit, il 2014-2015-2016, ma con una squadra nettamente, secondo me, inferiore a quella che vinse le prime due edizioni, perché quella si aggiudicò la Supercoppa UEFA col Barcellona, questa riuscì solo a perdere 5-4 pirotecnico col Barcellona in Supercoppa UEFA 2015, ma ha il record di tre finali perse su tre, roba assurda, mentre l'Atletico pur ha vinto tre Europa League, ha vinto tre volte la Supercoppa, e un po' la forza di una squadra che vince l'Europa League si misura se vince o meno la Supercoppa, perché poi torniamo alla polemica dell'Europa League che accoglie chi viene eliminato nelle varie fasi eliminatorie di Champions League, e quindi l'unico modo per dire, no, guarda che io sono forte, sono forte veramente, è vincere la Supercoppa, ed è giusto così. L'Inter, come definì questa partita? Arriva a Colonia, arriva con un 5-0, arriva a bella carica, mi ricorda in parte l'Olanda e in parte l'Ungheria, mi ricordo in parte l'Olanda del 74, che iniziò il match e in 100 secondi non fece toccare palla ai vieteschi, si procurò un rigore Cruyff, l'Olanda passò in vantaggio, però il match dell'Olanda finì lì. Stessa cosa, l'Inter parte devastante, Lukaku, primo lancio sulla destra, fa vedere di che passo è fatto, ha fatto già il record 10 partite consecutive di Europa League che ha segnato, va devastante in area di rigore, viene atterrato, calcio di rigore, Lukaku la mette dentro, 11 partite consecutive che ha segnato in Europa League, ha segnato in una finale, e guai il record di gol di Ronaldo, fenomeno, cosa vogliamo dire? Cosa c'è da dire in più? L'Olanda pure aveva segnato un gol in finale di Coppa UEFA in 98, quindi cosa c'è da dire? Si è partito devastante. Poi però, primo tiro in porta, De Jong, Andanovic, tiro, gol. Andanovic è il portiere e il capitano, quindi è quello che dovrebbe alzarla. Andanovic, tiro, la devia sulla mano, gol. Ok, 1-1, non ti devi spasentire. L'Inter voleva il rigore, il rigore che Forse c'era? Sì. Puoi perdere una finale per questo episodio? In teoria sì, ma quando ti è capitato l'episodio, avevi 70 minuti ancora da giocare. Puoi perdere la finale per questo episodio? No. E infatti, il Siviglia passa in vantaggio, non la mette con De Jong, e un'altra volta, tiro semplice, non è proprio semplice il tiro, è un colpo di testa, però per le dinamiche, forse peggio del primo. Il primo era un colpo che non ti aspettavi, perché stavi in vantaggio, avevi fatto mezza azione, è ripassato in vantaggio. C'erano ancora le polemiche, quasi alla lista tra Bud Spencer e Terencey, io volevo una lista tra Bud Spencer e Terencey alla fine della partita, se questa secondo me è anche più interessante. Immaginate in caso di pareggio, che l'arbitro radunava tutte le squadre nel cerchio di centrocampo, anche i due tecnici, ovviamente chi era espulso o no, diceva ragazzi, dovete buttare gli avversari fuori dal cerchio di centrocampo, l'ultimo che rimane vince. Cioè, l'ultimo che rimane, in base alla squadra che vince la squadra. è stato molto più divertente di fare i rigori, si può fare anche così 5 contro 5, se non è molto più bello. Detto questo, come possiamo definire il tutto? Tiro, palla inattiva, tiro, cioè un passaggio, si salta tutto alla difesa, vabbè, l'avete visto la partita, colpa di testa di De Jong, che non è neanche un gol spettacolare, cioè è un gol fatto perché la difesa dell'Inter era sistemata male, che puoi pensare, cioè, può ti capitare all'inizio del match, quando sei in vantaggio, ma quando sei sotto pareggio, e già ti hanno segnato un gol scemo, non lo puoi fare. Fortunatamente c'è Godin, c'è uno che è di Europa League, che ne sa, a Bizzeffe, e anche di Coppa importante, mentre anche la Coppa America, quando era l'Uruguay, segna. 1-1. Segna, 2-2. Quindi la partita si ferma, il primo tempo si ferma lì. io con mio zio, mi sono andato a vedere a casa di mia zia, dico, ma secondo te, qua quando finisce, io pensavo, ti davo un 4-4, o un 4-2, lui 4-3. C'era l'area, che si sarebbe segnato, anche nel secondo tempo, perché le squadre sarebbero apparse più stanche, e quindi ci sarebbe stato maggior manovra. Invece una partita più tattica, vogliamo dire, o più spenta. perché il 2-2 è stato molto pop, possiamo dire, molto spenta. L'Inter non so cosa, non credo che abbia giocato per andare a rigori, perché c'era un secondo tempo, non ci sono state movimenti. Diciamo che in realtà, già dal primo tempo, un paio di loro soffrivano molto. Lautaro Martinez spento, spentissimo. D'Ambrosio no, non è andato male, però il problema è che ha rischiato più volte pesanti cartellini. Barella lo si così, ma il vero pugno, che ha dato a tutta la formazione interista, è stato Gagliardini. Molti sono già in polemica, col fatto che Conte non abbia impiegato Ericsson, e, vabbè, sfottò sul fatto che lui, Juventino, è quindi perdita la finale, il fatto che Conte, si sia già comportato malissimo, con la squadra, e altre cose, che non voglio parlare. però sì, da questa sensazione, sensazione che ho avuto anche nei quarti finali dell'Europeo 2016, quando sul quarti finale dell'Europeo 2016, tu mi metti Zazza, Zazza. L'hai perso tutto. E c'ha questa scelta un po' juventina, di pensare che, siccome determinati calciatori possono andare bene in Italia, e poi Gagliardini è stato super criticato, lui sia questo fenomeno demiurco. Il finale, veramente, è bruttissimo, mi ricorda l'Europa League del Napoli 2015, che uno dice, ma come mai mettere la merda con la cioccolata, non puoi mettere l'integrato in finale, con il Napoli. No, il Napoli arrivò quell'anno, l'Europa League 2015, in semifinale, e arriviamo Higuain. Higuain, che non era né forte come l'anno dopo, ma neanche come l'anno prima, che comunque aveva giocato bene il 2014. Higuain, aveva, doveva segnare un gol, per essere il capocannone dell'Europa League. Il gol non lo segnò. Rimase a un gol, dall'essere il capocannone dell'Europa League. Lukaku, è venuto qua, è vero che lui ha giocato sei partite in totale, e ha segnato tutte e sei volte, cioè, ha segnato sempre, e questo è stato anche un problema, perché giocando, non giocando il ritorno degli ottavi, dei quarti, dei semifinali, ha giocato tre partite in meno. Però arriva a un gol, dall'essere il capocannone dell'Europa League. Allora tu ti aspetti, nelle favole più belle, che il gol del 3-2, te lo piazzi lui, capocannoniere, ho detto, faccio una doppietta, una tripletta, e diventi capocannone con la tripletta, in solitare. Però dici, ma in generale cosa conta più per un calciatore, che vinca il titolo di capocannoniere, e poi la squadra perda? Anche Gekko è stato capocannoniere dell'Europa League, ma in Europa League è arrivato agli ottavi con la Roma. O speri che il calciatore non segni per la squadra vinca? Stesso discorso, Iguain non segnò, e il Napoli non andò in finale, Lukaku non ha segnato, e l'Inter non ha neanche vinto. Ed è veramente una amarezza, perché come ho detto anche a mia zia, secondo me dopo 21 anni, un'italiana ci torna in finale, l'Inter, però mettiamo che l'anno prossimo lo vinca il Milan. Io sto contento se l'anno prossimo lo vince il Milan, però adesso è il fatto che, ragazzi questo decennio nessuna squadra italiana ha vinto qualcosa, zero, nata, Nisba, cioè è stato il peggior decennio della storia del calcio italiano, negli anni 30, quando in Coppa Mitropa abbiamo vinto col Bologna, negli anni 30 col Bologna, negli anni 50 il Milan in Coppa Latina, negli anni 60 il Milan in Inter è la Coppa dei Campioni, negli anni 70 Milano e Juve hanno vinto gli altri due trofei europei, la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA, negli anni 80, l'altra volta in Milano ha vinto la Coppa dei Campioni, pure la Juve, negli anni 90 Coppa dei Campioni, Milano e Juve, Coppa delle Coppe il Parma e la Lazio, la Coppa UEFA il Parma, la Lazio, Parma l'Inter e la Juve, negli anni 2000 è stato Ancelotti a portare i Rossoni in Trionfo, il Murigno a portare i Nerazzurri, anni 2010, zero, ed è la prima volta che le italiane non vincono nulla, sì, non abbiamo vinto nulla negli anni 40, dove si fece un'unica direzione della Coppa Latina, e tu su un'unica direzione puoi anche non vincere, e nulla negli anni 20, perché l'Italia non partecipava alla Coppa Metropa. Però questo è il primo decennio, un decennio nero, e che ne dica l'Italia d'amico, sì, una finale di Champions League è più prestigiosa di una finale di Europa League, siamo d'accordo? perché è vero, non ci diciamo buffonare, no, sono a valgo, non lo stesse. Per i punti UEFA, sì, adesso l'Inter è il quinta, però, per una finale di Champions League è più importante di una Europa League, ma non viene comunque vinto nulla. E sono dieci anni che gli italiani non vincono nulla, stiamo per sbistrattare ora il terzo trofeo della UEFA Europa Conference League, quando potrebbe darci qualcosa? ed è assurdo che una potenza come la nostra viva da dieci anni in questo stato di perenne inferiorità calcistica. Proverò a mettere scritto se abbiamo vinto qualcosa a livello giovanile, però Under 21 no, forse abbiamo vinto qualcosa con l'Under 19 o l'Under 17, però veramente stiamo prendendo il fondo, proprio a dire no, però guarda, forse qualcosa mi è rimasto in negozio. forse qualcosa l'ho vinto. Detto questo, il finale è la roba assurda, il Lukaku che inavvertitamente cerca di buttare via un pallone, invece lo butta dentro. Che però, se non si fosse rincoglionito alla fine, avrebbe pure voluto fare il pari, il problema è stato questo, che all'inizio partita Lautaro aveva un'occasione unica per passare a Lukaku e fare il raddoppio, aveva il grande gol da 50 metri, partendo facendo di 50 metri da solo, e non l'hai fatto. Non l'hai fatto. Ma poi in generale, Lukaku poteva essere servito prima del suo gol, ma anche dopo. Ci sono stati 15 minuti finali imbarazzanti, che erano simili alla semifinale col Benfica, col fatto che la Juve doveva segnare, segnare, segnare. Tra l'altro Stoccol mi ricorda il pietone di Chiellini, che ci mise fuori dai mondiali nel 2018, con la Svezia, che in quel caso in due partite non tirò neanche una volta in porta, ma vinse una 0 pre-off. Può capitare, può capitare, però è capitato anche nella favolosa finale di Coppa UEFA del 2001, 5-4 a golden goal, l'ultimo gol, un altro gol. È capitato pure nella finale mondiale di Futsal, quando l'Italia perde per un autogol allo scadere. Capita. Certo è assurdo il fatto che è stato un giocatore che cercava di lottare per il tiro di Capogna, gli sarebbe passato un altro gol, e invece poi ha fatto l'autogol e ha perso la sua squadra. Quando poteva non segnare, non fare l'autogol e magari la sua squadra vinceva. Però ragazzi, questo è il calcio alla Valle Rotonda, da un giorno a Lisbona, domenica 23 agosto, Piesce e Bayern Monaco, vediamo che, io dico, alza la Gigi, ma alza la bolletta che ha vinto. Almeno facciamogli vincere questa bolletta, ragazzi, se qualcuno sa che ci sia stato esatto, lo dicesse a Gigi, che lui alza la bolletta. Ora, è inutile perché ci sono le guerre degli ex, Suso, Suso ha vinto. Ma ragazzi, Suso ha sempre fatto cagare al Milan, quindi lasciamo stare. Piesce, ora l'Inter sta disperata, avesse vinto l'Europa League, ok, ma adesso ha Icardi al Piesce, Perisic al Bayern Monaco, quindi, domani, la Juve lo massacrerà l'Inter, ma ci deve stare al gioco, perché se tu puoi vincere l'Europa League, allora gli Juventini che ti dicono, visto, Perisic ha vinto la Champions con il Bayern Monaco, oppure, Icardi ha vinto la Champions con il Piesce, tu dici, sì, ma io ho vinto in Europa, tu no. Sì, fa ridere se quest'anno incominciano gli sultati dell'Inter, perché loro sono usciti agli ottavi con Lione, però ragazzi, io lo ripeto, la 104, non la danno ai Juventini, perché se no dovrebbero darla a un terzo degli italiani, un quarto, un terzo degli italiani, e per le casse dello Stato è tanto, quindi io spero di non annoiarvi, e ricordiamo che oggi, è stato appena detto che Pirlo è in grado di fare tutto, e che è vero che Zizù ha fatto l'allenatore in seconda, è stato il vice di Ancelotti, ma non è questo che l'ha riso un vincente, Zizù è un vincente, non lo so, pur di dire che Pirlo sarà un vincente, io spero che Pirlo sarà un vincente, sì, a me non mi interessa, tanto loro lo scudetto se lo rubano, per loro lo scudetto conta, devono fare 10 di fila, perché potevano fare 40 in campo, no, sarebbero 39 per loro, però loro a rotonda mettono il terzo in più, per dire 40 in campo, ma sarebbero 39 tecnicamente, sì, ma io conto come voglio, infatti io ho detto, ragazzi, ma se loro mettono due scudetti in più, io metterò due scudetti in più a tutti, e Napoli ha detto che l'ha vinto il terzo, se lo mettesse, cosa può fare la FIGC? Che dice che Napoli non lo può fare, perché non lo può fare il Napoli? Loro ce l'hanno, non lo fa di tutto niente, così a nulli, così a nulli, perché, se tutte le squadre si mettono gli scudetti che vogliono, tutte le squadre si mettono gli scudetti che vogliono, il Riolo 38 valgono 0, valgono come la Reggiana che se ne mette 15, eh sì, così si combatte la merda, ok? Io spero non vi è annoiato, ci vediamo tra un giorno o due, per il commento, l'ultima parte di queste finali, due facendo stick, due ferro palì, ciao a tutti!